Musica Presentato ieri alla zona industriale di Catania il progetto della Seabeg Green Mobility Project un progetto innovativo con un impatto ambientale pari a zero l'obiettivo è quello di dotare tutti gli agenti di vendita di auto elettrica a emissione zero investendo ben 2,4 milioni per il triennio Un'azienda leader in Italia e Europa per rispetto dell'ambiente e la città di Catania è orgogliosa del vostro primato che consentitemi anche a questo punto il primato della città I numeri insomma parlano chiaro 100 le auto full electric 2,4 milioni di euro l'investimento 330 tonnellate di CO2 non emessa 57 colonnine in ricarica dei veicoli 5 anni di esenzione dal bollo auto 135 chilometri il pieno di ricarica Insomma un progetto ambizioso per un'azienda siciliana leader nel suo campo che ha scommesso e speriamo che vinca per il nostro territorio Sono 100 auto elettriche per 160 esecti con dei numeri sull'impatto di socio ambientale incredibili risparmiamo in CO2 330 tonnellate ogni anno equivalente al lavoro di 25 mila alberi tanto quanto un bosco di 31 campi da calcio quindi numeri certificati incredibili per sviluppare un progetto nel medio e lungo periodo per la sosta ambientale di questa terra meravigliosa che è la Sicilia Un passo importantissimo, un passo fondamentale e essere protagonisti, sono mobilità elettrica è un tema così importante per il territorio e iniziarlo a fare qui in Sicilia con Simefogola per noi è un momento di importante, di vanto è un punto di partenza sul quale innestare altre attività sulla mobilità elettrica perché creare un punto di questo territorio insieme al protagonista come Simefogola per Enel è un punto assolutamente importante e quindi di partenza una che permette, abilitante quindi per la mobilità elettrica ed è un punto di partenza assolutamente in questo progetto di Rimobility che introdurre in quanto riguarda il mondo e per l'autorità il mondo per l'autorità diimabili per nonoste Grazie a tutti.